Amici Biancazzurri, amici Biancazzurri, tifosi di Pescara, di Salerno, di Bari, di Palermo, neanche non tifosi, siamo qua oggi in vacanza ragazzi, ormai come potete vedere ragazzi, Croazia è un altro mondo, purtroppo, ancora una volta, c'è l'Italia ragazzi è bella, però, non so, ditemi voi, poi c'è un spettacolo puro. Comunque, sono a Mali Loshin, adesso sono un po' fuori città, è normale, c'è veramente, spacca un tour veramente, sono con la famiglia ragazzi, sono con la famiglia, e niente, siamo in una mini vacanza, 5 giorni, un po' per, insomma, queste ferie diciamo, perché comunque, aprile, maggio, giugno ragazzi, si è lavato tanto sul tennis ragazzi, e quindi, insomma, tanta roba ragazzi, io voglio andare a Pescara, ma, non lo so, non lo so, veramente, magari prossimo anno, vediamo, però vedrai la Croazia, c'è poco da, c'è poco da dire, c'è veramente, stupenda, numero uno, veramente, può, vabbè, purtroppo, certe cose si potrebbero migliorare, sicuramente, però, anche l'Italia, vabbè, anche l'Italia, purtroppo, a suo difetto, raga, però, c'è, sta natura, raga, spacca un tour, ragazzi, spacca un tour, ragazzi, spacca un tour, ragazzi, in questi giorni, faremo il video, come mai, Pescara, ok? come potete dire, c'è una maglia Erea, 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 manca solo il tema del Pescara, e sarei originale, però, comunque, ho preso questa maglia, e, niente, altro, insomma, qui, ancora, oggi pubblico il video, insomma, quando appena dicevo i fili, insomma, dopo, diciamo che, me la caverò, me la caverò, in qualche modo, a caricare il video, comunque, eh, niente, c'è, qui, ragazzi, c'è tanta roba, veramente, da, veramente, tanta roba, c'è tutta la dalmatia, ragazzi, è qualcosa di fenomenale, c'è, veramente, c'è, non andiamo ogni anno, ormai, c'è, i miei, per la trattia, sono fuori testa, purtroppo, perché è troppo bella, va, c'è questa natura, no, che spacca, beh, per carità, la Slovenia è anche un bel mare, per l'età, però, qui, ragazzi, qui, qui è una tua storia, ragazzi, no. Comunque, ragazzi, ehm, io in questi giorni porterò dei vlog, perché, comunque, penso che con i vlog, ragà, mi caverò meglio, e mi occorre meno tempo, i videogiochi, ragà, faremo un pochino di meno, ok, quindi, i video pesanti, con editing, ragà, io, veramente, il tempo è veramente corto, se mi va così, e di essere a stare ad editare tre, quattro ore un video, veramente, è dura, è dura, quindi, secondo me, il vlog, ragà, secondo me, andrà meglio. Dunque, faremo, eh, parleremo di Tescara, un pochino, ragazzi, per, insomma, abbiamo finito la stagione, diciassettesimo posto, ehm, eccetera, eccetera, adesso ci sono i mondiali, ci godiamo un po', senza l'Italia, purtroppo, ma, vabbè, eh, però, io mi gosto di questi mondiali, ragazzi, dove c'è il Panama, c'è l'Egitto, ragà, il Marocco, l'Iran, l'Islandia, ragazzi, tutte le neo-favorite, le non-favorite, ovviamente, eh, questo è importante, c'è, la Germania ha perso, sono contento, eh, sai, l'Iran è primo, ragà, l'Iran è primo, e, c'è, eh, storie, sono storie, ragà, e questo è importante, è vero o no, eh, è vero, è vero, è vero, eh, non lo so, ragà, magari, magari facciamo un altro video, lo posto su YouTube, vediamo, eh, però dovrò prima, insomma, quando vengo a casa, insomma, perché, almeno, in un appartamento, perché altrimenti qui, è che ho un video, ti vuole un bot, 4 minuti e 10, ragazzi, grazie per la visione, Forza Pescara, o anche Forza, qualche altra squadra per voi, eh, niente, lasciate un mi piace, questa, ragazzi, è la Croazia, tanta roba, ma tanta roba, è solo l'inizio, ragazzi, è solo l'inizio, è così, ragazzi, così è, bella Croazia, ragazzi, un mi piace, un commento, iscriviti, noi ci vediamo al prossimo video, Forza, Bianca Azzurri, ciao! Grazie a tutti!